Musica Bella a tutti ragazzi qui è TolaFra che vi parla E sono giunto qui con il terzo video delle sponsorizzazioni Prima di iniziare volevo davvero ringraziarvi perchè senza di voi non sarei mai arrivato al terzo video di sponsorizzazioni In cui sponsorizzerò le altre persone che hanno aderito al mio progetto per cui grazie davvero Prima di iniziare però volevo anche dirvi di mettere un bel mi piace a questo video E se volete partecipare basta che commentiate scrivendo partecipo o sponsorizzami è uguale E iscrivendovi al mio canale In questo modo io vi aggiungerò se non nel prossimo nel prossimo ancora video di sponsorizzazioni Comunque bando alle ciance iniziamo subito a sponsorizzare e a parlare dei canali che hanno aderito L'ordine con cui ve li sto citando è totalmente casuale E chiedo scusa a quelli che non sono rientrati in questi sette canali Ma ho fatto, ho estratto i nomi dei canali in modo totalmente casuale Per cui non abbiatene contro di me se non siete entrati Rientrerete sicuramente nella prossima sponsorizzazione, ve lo assicuro Comunque iniziamo e abbiamo The Vey Games 1 È un nome un po' impronunciabile ma comunque lo vedete bene qui al centro dello schermo Assieme al link Parliamo un po' di questo canale, questo canale è un canale abbastanza piccolo che ha 16 iscritti Però nonostante ciò dimostra di impegnarsi Perché ho visto che produce delle copertine, delle ottime copertine per i video Cosa che, lo ripeto in tutti i video, non è scontata Ragazzi le copertine vi aiutano tantissimo Secondo me oltre ad abilire il canale aumentano anche le visualizzazioni È un canale di giochi Quindi tratta di numerosi giochi Non ha molti video però vi consiglio di andare a guardarlo Cliccando il link qui al centro dello schermo o in descrizione Per cui andate a guardare il canale di The Vey Games 1 Ed iscrivetevi anche al suo Come secondo canale abbiamo It's Capax Anche questo è un nome un po' strano Però il canale non è affatto usuale Infatti secondo me è un canale abbastanza originale Ha 74 iscritti Per cui capirete anche voi che non è un grandissimo canale Io non sono sicuramente un grande youtuber E infatti anche io sono partito da pochissimi iscritti Ma non solo io anche il più grande del youtuber Non è partito con migliaia di iscritti Per cui se volete dare una mano anche a It's Capax Andate sul suo canale Che tratta un po' di tutto Fa dei video molto curati Molto ben curati Con copertine eccetera Su gameplay di vario genere appunto Andiamo da giochi di Mario Fino ad esempio a Call of Duty Ghosts O gli altri Call of Duty o giochi di sparatutto Per cui vi consiglio davvero questo canale Andateci e date un bel supporto a questo youtuber Come terzo canale abbiamo Gamers Army A 34 iscritti Anche questo è un piccolo canale Che tratta di horror e altro Soprattutto giochi horror da quanto ho notato Sono ben curati Quindi anche loro utilizzano le copertine personalizzate dei video Che rendono appunto l'aspetto migliore E sono un gruppetto di ragazzi E vi consiglio di andare a visitare il loro canale Per aiutarli a crescere Dopodiché abbiamo Riccardo Magie Impossibili Come potete ben capire dal nome E' un canale che tratta di magie Magie di tutti i tipi Con le carte E qualsiasi altra cosa A 115 iscritti Per cui faccio i miei complimenti E' un canale che sta appunto crescendo Andate a dargli una mano E' un argomento che io sinceramente Non conosco molto bene Per cui non me ne intendo molto Però se anche a voi interessa Magari imparare qualche trucco di magia Visitate il suo canale E mettete un bel mi piace ai suoi video Per seguirlo Dopodiché abbiamo The Bomber The Bomber ha 50 iscritti Fa video un po' di tutto Tra GTA Video specialmente in GTA FIFA Minecraft Eccetera Quindi anche questo è un canale un po' misto Se volete dargli una mano A crescere Andate sul suo canale E iscrivetevi Ve lo consiglio Abbiamo poi Super Melo 93 Che fa video su GTA E Minecraft E cura Anche le copertine Per cui Fa dei video curati 93 iscritti non sono pochi Nonostante i pochi video che abbia Per cui ne vale davvero la pena Vuol dire che Riesce ad invogliare L'utente E a divertirlo Quindi vi consiglio Se volete essere anche voi Passare Un po' di tempo Guardare i suoi video Di andare sul suo canale Il canale di Super Melo E di iscrivervi subito Infine abbiamo Samuele Contessa A 62 iscritti E fa dei tutorial Soprattutto su Cinema 4D Ho visto qualche video E mi sono molto piaciuti I suoi video Soprattutto quelli Relativi agli effetti Anche se non uso Personalmente Cinema 4D Ho visto degli effetti Che mi hanno Fatto venire voglia Di imparare ad utilizzare Questo programma Per cui Grazie a Samuele Contessa Per i tuoi ottimi tutorial Se anche a voi interessa Questo argomento Non fa solo tutorial Su Cinema 4D Ma anche su Svariate Svariate Altri svariati argomenti Per cui Se vi interessa Andate a vedere il suo canale Samuele Contessa E trovate il suo link Qui E in descrizione E dategli una bella mano A crescere Bene ragazzi Il video è ormai Giunto al termine Vi riringrazio ancora Per aver partecipato Ai video precedenti E spero Che anche voi Che non avete ancora aderito Partecipiate presto Per quelli che hanno aderito E che non sono stati ancora citati Vi è sicuro Che verrete Sicuramente sponsorizzati Nel prossimo video Quindi non abbiate premura Per essere sponsorizzati Il procedimento è molto semplice Ve lo ripeto Mettete un bel mi piace A questo video Vi iscrivete al mio canale E commentate Appunto sotto questo video Scrivendo Sponsorizzami Oppure partecipo Comunque qualcosa Che mi faccia capire Che anche voi Volete essere citati Spero che partecipiate In tanti Anche perché potrebbe Davvero aiutarvi a crescere Inoltre Da anche una mano a me Perché Fate aumentare Il mio coinvolgimento All'interno di youtube Quindi Spero che l'idea Vi piaccia Se vi va Potete anche invitare Dei vostri amici A mettere un bel Mi piace a questo video Magari se conoscete Dei vostri amici Che hanno bisogno Di qualche sponsorizzazione O che Che voi ritenete Che abbiano bisogno Di essere conosciuti Che sono degli ottimi youtuber Ma che non hanno Molti iscritti Il metodo è molto semplice Nei commenti Basta che Digitiate A chiocciola E il nome Completo Dell'utente youtube Che vi interessa In vogliare Io vi faccio un esempio Mettiamo A chiocciola E De Dalu98 De Dalu98 È un mio amico Che ha fatto anche Dei gameplay Con me Per cui Se vi interessa Visitare il suo canale Scusate Andatelo A guardare Perché anche lui Fa degli ottimi video Per cui L'importante È che il nome Risulti Cliccabile Ok Quindi In azzurro E cliccabile O in grassetto In questo modo Appunto Vi inviterete Il Il vostro amico A mettere Un bel mi piace A questo video E a partecipare Anch'esso Alla sponsorizzazione Questo è totalmente Facoltativo Però Se vi va di dare Una mano Questo è il metodo Migliore Per cui Da to la fra è tutto Ragazzi Spero che Partecipiate ancora Perché Sono ben contento Di produrre altri video Riguardo alle sponsorizzazioni E ci vediamo Nei prossimi video Ciao